ieri sera la juventus è uscita ancora una volta agli ottavi di champions league non è la prima volta negli ultimi anni è uscita in maniera assolutamente rocambolesca però questa uscita dalla juventus in champions league è il coronamento di un fallimento italiano in europa che ormai va avanti da troppo troppo tempo in questo video non andrò a parlare di quella che è stata la partita non più di tanto almeno non andrò a parlare di quelle che sono state le altre partite non ci sarà il solito fs champions league show in cui parliamo un po di tutte le partite ma in questo video vorrei fare un'analisi un po su quella che la juventus e gli ultimi anni parlare un po di questa ennesima figuraccia in europa e faremo un po un bilancio di quello che le italiane stanno facendo per meglio dire non stanno facendo nelle competizioni europee quindi parliamo molto brevemente della partita mi sposto così di lato avete le grafiche la partita è stata veramente un disastro fin dall'inizio rigore totalmente regalato da demiral che si vede che non è esperto in queste partite per regalare un rigore così ingenuo la juventus già doveva recuperare il 2-1 dell'andata in cui aveva preso due gol totalmente per disattenzione proprie e solo chiesa alla fine aveva rimesso le cose un po a posto sarebbe bastato l'1-0 ritorno ma subito la partita si mette in salita per la juventus che si complica la vita da sola segna poi l'1-1 con chiesa segna il 2-1 con chiesa e il porto rimane in 10 e la juventus praticamente gioca non la mezz'ora rimanente ma la mezz'ora rimanente più 30 minuti supplementari più tutti i minuti di recupero insomma gioca 2500 minuti in 11 contro 10 ma nonostante ciò non riesce a trovare il gol di 3-1 un po per sfortuna il gol in fuorigioco millimetrico di morata la traversa di quadrado un po per errori propri su tutti il colpo di testa di cristiano ronaldo e alla fine per un'altra cavolata con la barriera che neanche guarda il calciatore che tira scesni non vede il pallone in tempo il porto torna in vantaggio nel secondo tempo supplementare la juventus segna subito dopo il gol del 3-2 quindi c'è ancora una possibilità ma poi la partita finisce con con il porto che riesce a resistere agli assalti finali allora è stata una partita decisamente decisa sia l'andata sia ritorno dagli episodi ma la juventus non deve assolutamente farsi condizionare dagli episodi un rigore non dato una punizione nata da un fallo che probabilmente non c'era perché queste cose possono accadere non è di certo ma la fede degli arbitri però devi essere più forte di anche di questa avversità se vuoi vincere la champions league specialmente se non è un match contro il Bayern Monaco ma è contro il porto ritorno adesso al centro e andiamo a parlare un po' invece della situazione in generale dei bianconeri e dell'italiano in europa la juve si è presentata a questa edizione di champions league come una squadra che partiva molto europea più che italiana soprattutto all'inizio del campionato si vedeva una squadra molto spumeggiante che sapeva ripartire in fretta che sapeva giocare molto velocemente pallone e che portava tantissimi uomini ad attaccare l'aria di rigore è emblematico il video che avevamo fatto in cui analizzavamo in maniera precisa come giocare la squadra di Pirlo il video l'ho trovata ancora sul canale e però alcune cose sono cambiate sia per gli impegni molto ravvicinati sia per tantissimi uomini disponibili questo va detto delicto non c'è stato quasi mai arthur non c'è stato quasi mai cristiano ronaldo l'ha dovuto giocare tutte morata ha avuto i suoi problemi in generale in difesa se ci si è sempre ritrovati con tantissimi uomini assenti quadrada alexandro bonucci chiellini insomma è stato un po' un patatrack a livello di infortuni ma non è sicuramente questo il problema perché è andata sì la giocata con i difensori in meno il ritorno si è ritrovato arthur però comunque mancavano dei giocatori in tutte le zone del campo però è un fallimento che non ti puoi permettere perché il livello del porto per quelli che sono i giocatori non è più alto di una fiorentina con tutto il bene per la fiorentina però è una squadra che devi strapazzare nei 180 minuti e invece non è andata così la juventus non ha la mentalità europea per vincere ce l'ha avuta ce l'ha avuta in questi ultimi anni quando aveva una squadra paradossalmente meno forte ce l'ha avuta nel 2015 quando ha fatto un ottimo cammino ha eliminato un real madrid che nessuno nei cinque anni tra ancelotti e zidane è riuscito a eliminare ma la juventus ce l'ha fatta vincendo 2-1 in casa e andando a pareggiare 1-1 a bernabeu e la juventus ha perso poi la finale contro il barcellona della msn una partita ingiocabile decisa un po dal rigore a nota pogba però anche lì era un avversario troppo troppo forte invece dall'altra parte la juventus nel 2016-2017 era un po meno forte a centrocampo un po più forte probabilmente in fase offensiva e difensiva con la porta di Dani Alves e ancora una volta arrivata in finale e poi è successo quello che è successo negli spogliatori di Cardiff alla fine la juventus ha perso quella partita però paradossalmente senza l'obiettivo fisso il chiodo fisso di vincere la champions la juventus aveva molto più una mentalità europea e aveva molto più una squadra pronta a mettere tutto quello che aveva nelle sfide di champions league cosa che poi si è persa si è persa paradossalmente con l'arrivo di cristiano ronaldo quello che avrebbe dovuto fare il salto di qualità far fare il salto di qualità alla squadra invece per l'arrivo di cr7 vuoi da una parte perché comunque ho in età vuoi da una parte perché sei stato costretto a vendere dei giocatori per potertelo permettere alla fine tutta la squadra è andata a perdere e la juventus ha messo in fila tre sconfitte pesantissime l'eliminazione con l'ajax dopo che l'andata era finita una uno e la juventus era andata in vantaggio una zero in casa e ritorno dopo tra l'altro la rimontona con l'atletico madrid l'eliminazione l'anno scorso con il lione agli ottavi dopo la sconfitta una zero in trasferta e la vittoria solamente per due uni in casa sconfitta per differenza reti e infine quest'anno con il porto dopo la sconfitta 2 a 1 in portogallo e 3 a 2 e ritorno in tempi supplementari dopo che il porto ha giocato sempre in dieci insomma di male in peggio una sconfitta più amara dell'altra è che la juventus non può più permettersi perché adesso va detto al di là del tifo la juventus è la squadra che simboleggia il calcio italiano all'estero è la squadra più forte d'italia lo dimostra da qui a dieci anni è la squadra che ci ha sempre messo di più negli ultimi anni ha fatto i migliori risultati nelle competizioni europee eppure non è mai riuscita a vincere e questo è dovuto in gran parte a una mentalità sbagliatissima del calcio italiano perché lo vediamo anche con le altre squadre l'inter l'inter è la seconda razza più forte d'italia forse addirittura al pari della juventus eppure è uscita i gironi in un girone decisamente facile contro il real madrid che doveva essere prima e non andava contato ma poi con Shakhtar e Mocengladbach è riuscita a fare sei punti in quattro partite ed è veramente veramente troppo troppo poco l'inter non è riuscita a vincere in casa col Mocengladbach e non è riuscita a fare un gol in 180 minuti allo Shakhtar Donetsk la Lazio, la Lazio ha passato un girone facilissimo perché va detto con brividi Solbrus e Dortmund era una squadra più forte della Lazio poi però i biancocelesti si sono ritrovati in difficoltà con la rosa hanno fatto un buon girone ma fino al novantesimo dell'ultima partita non era sicura di passare contro il Club Bruges e poi l'Atalanta, l'Atalanta è l'unica squadra che sta veramente tenendo alta la bandiera italiana all'estero l'anno scorso l'eliminazione all'ultimo secondo contro il PSG senza Ilicic e quest'anno un'eliminazione che non è ancora certa assolutamente contro il Real Madrid giocando tutto l'ottavo in dieci per un'espulsione inesistente contro il Real Madrid partita finita 1-0 Cosa stanno sbagliando le squadre italiane? Il Napoli in Europa League esce in maniera disastrosa Il Milan rischia di uscire con la stella rossa L'unica un po' la Roma che però storicamente a parte la clamorosa semifinale persa contro il Liverpool non ha mai fatto niente in Europa Qual è il nocciolo di questo discorso? Perché non riusciamo a fare bene in Europa in qualità di italiane? Perché non riusciamo a fare come gli inglesi che hanno portato 4 su 4 due anni fa? Perché non riusciamo a fare come le spagnole che hanno fatto un dominio ininterrotto dal 2014 al 2018? Perché non riusciamo a fare come la Germania che tra Bayern Monaco, Borussia Dortmund è riuscita a vincere un sacco di trofei, a fare un sacco di ottimi risultati? Allo Juventus e agli italiani manca la mentalità Manca la mentalità di giocare un calcio europeo Giocare un calcio dove ti prendi dei rischi Giocare un calcio dove giochi all'attacco Giocare un calcio dove non ti interessa se lasci l'uno contro uno in difesa Perché tu porti dei giocatori che sanno farlo E immediatamente nel momento in cui recuperi palla vai subito in avanti Nel momento in cui perdi palla vai subito a pressare E questo non si è visto Non si è visto con l'Inter Che non è riuscito in 180 minuti allo Shakhtar a fare un gol Non si è visto nella Lazio che ha preso tre gol imbarazzanti contro il Bayern Monaco Non si è visto nella Juventus La Juventus ha giocato letteralmente 20 minuti all'attacco Tra andata e ritorno 5 minuti all'andata dove ha segnato con Chiesa E un quarto d'ora al ritorno dove ha fatto doppietta con Chiesa Poi con il Porto in 10 E la Juventus con tutto l'entusiasmo del caso Non è riuscita a fare 10 minuti seri di pressing offensivo Di fare 5-6 tiri nel giro di 10 minuti Mettere sotto pressione il Porto Fargli prendere paura Fargli vedere che tu sei la squadra più forte Tu sei la squadra che deve devastarli Deve andare lì a vincere senza paura E sono gli altri che devono avere paura di te Ieri era la Juve che aveva paura del Porto Era la Juve che nel momento in cui il Porto recuperava la palla Si tirava subito indietro perché aveva paura del contropiede di Marega Dell'inserimento di Sergio Oliveira E' stata una squadra veramente imbarazzante E il problema non è sicuramente avere De Miral titolare che ti causa il rigore Il problema non è avere Rabiot E il problema non è neanche avere un Cristiano Ronaldo decisamente non brillante E il problema è nel momento in cui tu muovi questi giocatori in campo Tu li fai giocare come una squadra Gli dai un'impronta Devi dare un'impronta La Juventus non ha dato un'impronta Non ha un'identità di gioco C'è una vera differenza tra avere un'identità di gioco E avere uno schema di gioco Lo schema di gioco è Questa partita magari me la gioco un po' più difensiva Questa partita la gioco un po' più d'attacco Questa partita cerco di sbloccarla subito nei primi minuti Questa partita invece cerco un po' di tenerla lì per far stancare l'avversario E poi punire magari nel secondo tempo Un'identità di gioco è come una squadra è studiata fin dall'inizio Un progetto Questa squadra giocherà in questo modo L'unica squadra in Italia che ha un'identità di gioco è l'Atalanta Che non ha gli interpreti più forti Perché l'Atalanta è in difesa a Jim City, a Romero e a Palomino o Toloi Che sono tutti giocatori che fino a qualche anno fa giocavano rispettivamente Benevento-Jim City Al Genoa-Romero fino all'anno scorso Toloi ha giocato quasi sempre all'Atalanta Però insomma sono giocatori decisamente non risonanti come può essere De Ligt O come può essere De Frij O come può essere Godin per l'Inter l'anno scorso Per quanto riguarda il centrocampo Derone e Freuler, due giocatori che si sono fatti a Bergamo Non sono di certo l'Arthur della situazione Eriksen Vidal Davanti l'Atalanta aveva il Papu Gomez Che ha fatto tutta la sua esplosione a Bergamo Ilicic che era un giocatore forte ma ha avuto la sua esplosione a Bergamo Duvan Zapata che prima giocava alla Sampdoria Muriel, una carriera con un fallimento dopo l'altra prima di affermarsi Giocatori come Pasalic riadattati a tre quartissi molto offensivi Gli esterni, Gosens e Atebur Erano nessuno prima di entrare in una squadra che ha un sistema di gioco Ha un'identità di gioco che trasforma tutti i giocatori Invece sembra che alla Juventus e all'Inter Tranne per pochi casi Ma soprattutto nelle competizioni europee Praticamente per tutti i giocatori dal primo all'ultimo E invece sembrano regredire Giocatori fortissimi che sembrano super europei Tipo Vidal, tipo De Ligt, tipo Eriksen Che improvvisamente regrediscono nel momento in cui vanno a giocare in Italia È un problema di mentalità È un problema di strutturazione delle giovanili Perché non si vogliono mai lanciare giovani Uno va a vedere che cosa ha fatto il Liverpool Il Liverpool ha messo il titolare Alexander Arnold Un giocatore della primavera Ha messo il titolare Robertson Un giocatore della primavera Ha messo il titolare Joe Gomez Un giocatore della primavera Insomma, ci sono squadre che hanno messo i titolari Per cinque undicesimi giocatori della primavera Si pensa a Barcellona di Guardiola Pedro, Busquets, Piqué, Victor Valdés, Messi, Iniesta, Xavi Tutti i giocatori che arrivavano dalla cantera Il Real Madrid Carvajal, ad esempio Sergio Ramos, comprato giovanissimo dal Sevilla Ha fatto tutta la carriera a Madrid Varane, ad esempio anche un Fernando Mendy Che adesso ha fatto un'esplosione al Real Madrid Ma era un giocatore che non era Un nome altisonante Prima di arrivare al Real Madrid O perlomeno non più di tanto A centrocampo Casemiro È stata un'invenzione totalmente di Zidane Insomma, una squadra che Vuole vincere Il Bayern Monaco, neanche ne parliamo Deve avere un'identità di gioco Deve formarsi sui giocatori In base all'identità di gioco Non basta comprare Cristiano Ronaldo per vincere Non basta comprare Cristiano Ronaldo per vincere Non basta comprare Lukaku per vincere Serve altro Quindi, io spero che adesso nei commenti Si crei una discussione Sicuramente ci sarà qualcuno di voi d'accordo Sicuramente ci sarà qualcuno di voi In disaccordo con questo mio discorso Io vorrei che questo video Creasse una discussione pacifica nei commenti Per cercare di capire un po' Qual è il bandolo della matassa Perché gli italiani escono Con figure così barbine in Europa Condividete questo video se vi è piaciuto Se la pensate così O anche se non la pensate così Magari anche solo per dire Guarda, questo deficiente che cosa stupida che dice Mettete un mi piace se vi è piaciuto Iscrivetevi al canale E attivate la campanella Per non perdervi i prossimi video Noi ci vediamo ad un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti